Nel video di oggi ragazzi vi svelerò quello che è il segreto utilizzato dai cinesi per risparmiare tantissimo. Ma perché proprio i cinesi? Perché ho scoperto poco tempo fa che i cinesi sono degli ottimi risparmiatori. Pensate che alla fine del 2021 i cinesi risparmiavano circa il 46% in media di quello che guadagnano. Quindi insomma una bella cifra e al contrario degli italiani stanno mantenendo questa buona abitudine. Mentre gli italiani fanno sempre più fatica a risparmiare stanno un po' prendendo la deriva americana che dall'altra parte sono invece dei pessimi pessimi risparmiatori. Pensate che un americano in media risparmia circa tra il 5 e il 10% del proprio reddito. Quindi capite che differenza incredibile che c'è. E allora nel video di oggi impariamo proprio dai cinesi i grandi risparmiatori come fanno a risparmiare così tanti soldi. E vi svelerò quello che è il segreto. Anzi in realtà ne vedremo 4 di segreti che utilizzano tutti i giorni per accumulare ricchezza nel tempo. Prima di iniziare però ragazzi se volete raggiungere la libertà finanziaria ho creato per voi una challenge di 3 giorni spettacolare. La challenge per la libertà finanziaria. Datevi 3 giorni, 60 minuti al giorno e vi spiegherò come impostare il percorso verso la vostra libertà finanziaria. Tutto completamente gratis. Vi metto sotto il link in descrizione oppure qui in alto a destra. Cliccateci, registratemi, fatelo adesso finché sono aperte le iscrizioni e finché è gratuito e noi ci vediamo alla challenge live da non perdere. E se volete prenotare una call direttamente con me di orientamento sui nostri percorsi formativi per sapere quelli che sono più adatti alle vostre esigenze sempre qui sotto vi metto il link per prenotare una call gratuita direttamente sul mio calendario personale. Parlerete direttamente con me. Sotto in descrizione c'è il link. Fatelo anche questo finché ve lo metterò a disposizione. Ma ora è arrivato davvero il momento di iniziare. Via! Come mai mi è venuto in mente di parlare del risparmio dei cinesi? Perché stavo parlando qualche tempo fa con degli amici conoscenti di origine cinese che mi raccontavano proprio che in Cina sono da sempre dei grandi risparmiatori. Poi mi sono andato a documentare un po' a destra a sinistra. Effettivamente ho visto che sono dei grandi risparmiatori ma questo proprio a livello storico. Allora cerchiamo un attimo di capire come mai risparmiano così tanto sono così abituati a risparmio. Intanto prima di arrivare ai cinesi partiamo un attimo dalla parte opposta dagli americani che non risparmiano assolutamente niente. Perché? Perché in Italia stiamo prendendo quella deriva americana del consumismo, devo spendere tutto quello che guadagno, devo indebitarmi per far girare l'economia. Che per carità va bene per far girare l'economia ma poi chi si indebita fa una brutta fine tendenzialmente. In America infatti è tutto, sono tutti bombardati dal consumismo, offerte di qua, offerte di là, spendi su, spendi giù, il Black Friday, il Cyber Monday. Ogni occasione è buona per spendere e spandere e quando le persone non hanno i soldi per comprare quello che vogliono si indebitano. Parte di credito a gogo si indebitano per gli studi, si indebitano per la macchina, per la casa, per il cellulare, per qualsiasi cosa gli passa vicino, si indebitano. E praticamente passano tutta la vita a cercare di ripagare i debiti fin quando non saltano per aria. Anche in Italia siamo stati un paese di grandi risparmiatori, no? L'italiano è un ottimo risparmiatore o perlomeno è stato un ottimo risparmiatore perché adesso prendendo le influenze un po' americane ci stiamo abituando anche in Italia al consumismo e così stiamo prendendo quella deriva molto molto spinta. Quindi vediamo gli italiani che risparmiano sempre di meno e si iniziano ad indebitare sempre di più per acquistare cose che in realtà non si possono permettere di avere. Dalla macchina, motocicletta, cellulari, vacanze, matrimoni, case ai tanto altro. Ora, che cosa stiamo sbagliando adesso? Anche qui iniziamo ad essere sempre più bombardati da messaggi, notizie, compra di qua, offerte, anche noi facciamo il Black Friday, facciamo il Cyber Monday, facciamo Natale, facciamo Pasqua, Tutto, ogni occasione anche qui è buona per spendere. Ma dall'altra parte i cinesi che cosa fanno invece per mantenere questi alti tassi di risparmio? Prima cosa in Cina, poi vediamo quattro segreti, però intanto cerchiamo di capire il loro approccio al denaro. Intanto in Cina vedono di cattivo occhio l'indebitamento. Non gli piace indebitarsi, quando lo fanno devono essere proprio costretti, quindi preferiscono comprare e pagare direttamente cash. Se c'è qualche amico cinese che ci segue, magari ditemi se sto dicendo qualche fregnaccia, io mi sono andato ad informare e documentare un po' di qua, un po' di là, qualcuno me l'ha raccontato proprio per sentito dire gli amici e conosciuti i cinesi, quindi fatemi sapere nei commenti qui sotto, scrivete se è vero oppure no, se confermate o se avete altre cose da dire. Quindi intanto capiamo che per i cinesi già indebitarsi non è una bella cosa proprio a livello culturale. Ma poi perché ai cinesi piace così tanto accumulare risparmio e risparmiare così tanto? Perché in Cina, a parte veder di cattivo occhio l'indebitamento, risparmiare e avere dei capitali da parte è considerata una questione di onorabilità, una questione onorevole. Più soldi hai da parte, più soldi hai accumulato nel tempo, più sei visto come una persona di successo. Bene o male, non sto qui a giudicarlo, però è così, quindi ti vedono come una persona di successo. Ma questo ha delle radici storiche. Ora pensate che in Cina dalla fine degli anni 70, inizio degli anni 80 fino al 2016, correggetemi se sbaglio, adottano, hanno adottato la politica del figlio unico. Quindi il governo, lo Stato impediva alle famiglie di avere più di un figlio. In realtà non è che ti possono impedire di fare un figlio, ma disincentivano avere più di un figlio. In che modo? Facendo delle multe per chi ha più figli, oppure non registrando a livello familiare i figli dal secondo, terzo, quarto e così via. E non registrandoli nel sistema familiare praticamente non potevano avere accesso alla sanità e tante altre cose. Per cui le persone evitavano di fare più di un figlio. E effettivamente questa politica di controllo della demografia ha funzionato perché c'è stato un calo, un forte, fortissimo calo delle nascite. Ora, con la possibilità di fare soltanto un figlio, però le famiglie cinesi che cosa preferivano? Anche qui correggetemi se dico qualche cosa che non è proprio esattissima. Magari scrivetemelo sotto nei commenti, io non sono uno storico cinese. Le famiglie che cosa preferivano? Preferivano avere un figlio maschio. Non voglio fare discriminazioni di alcun genere, ma è quello che ho letto, ho capito, mi sono informato. Preferivano fare un figlio maschio. Perché? Perché il figlio maschio, ad esempio, uno dei tra virgolette vantaggi per la Cina era che ereditava il cognome della famiglia. Quindi le famiglie che volevano portare il cognome familiare e tramandarlo da generazione in generazione preferivano il figlio maschio. E quindi stavano lì con tutti i loro bei metodi contraccettivi per cercare di avere figli maschi. Quindi volevano tutti i figli maschi. Questo che cosa ha portato? Ha portato che c'è stata una disparità tra uomini e donne. E quindi è arrivato a un certo punto dove c'erano più uomini, un po' più uomini, non esageratamente troppi, però un po' più uomini rispetto alle donne. E qui arriva il bello perché entrano in gioco quelle dinamiche di domanda ed offerta. Ora, lungi da me banalizzare il tutto e riportarlo sulla domanda e l'offerta, però effettivamente sentite che cosa è successo. Dato che c'erano più uomini rispetto alle donne, chiaramente c'era un problema di eccesso di domanda rispetto all'offerta. Perdonatemi sempre per questo paragone, per questa similitudine. E che cosa succedeva quindi? Che gli uomini dovevano cercare di prevalere un po' sugli altri, essere più attraenti ed essere più desiderati da quelle minori donne che c'erano tra virgolette sul mercato. Perdonatemi, sto andando a impelagare in un tema molto caldo ho sentito, però cercate di capire il concetto, quello che è successo, perché poi effettivamente è successo questo. E allora, per risultare tra virgolette più attraenti agli occhi delle donne, dato che avere soldi da parte, avere un capitale da parte, ti faceva apparire agli occhi delle persone, non soltanto delle donne, come una persona di maggior successo, ecco fatto che gli uomini hanno cominciato a risparmiare, a risparmiare sempre di più per cercare di apparire persone più di successo. E dall'altra parte però c'è stato un lato positivo anche per le famiglie. Perché? Perché avendo un solo figlio, invece di averne due, tre, quattro, cinque, ovviamente le spese per mantenere i figli sono diminuite e quindi da una parte le famiglie risparmiavano di più, dall'altra parte i figli maschi, gli uomini hanno iniziato a risparmiare di più per cercare di apparire migliori agli occhi delle donne e questo ha portato ad una sensibilizzazione sempre maggiore al risparmio. Un altro motivo perché anche a livello culturale in Cina sono molto propensi al risparmio è perché in Cina diffidano un po' dal sistema pensionistico nel senso che non credono al fatto che lo Stato possa loro in futuro pagare la pensione e quindi dicono dato che tu Stato si me la prometti la pensione ma poi non me la pagherai io non mi fido che mi pagherai la pensione un po' come ci fidiamo qui in Italia ecco fatto che allora dicono dato che non ci pensi tu caro Stato allora ci devo pensare io a farmi la pensione futura e allora lavorano sul fondo emergenza, sistema pensionistico fatto privatamente quindi iniziano a pensare a tutto quanto loro quindi un altro motivo per cui sono molto sensibile al risparmio è anche per dei fini previdenziali. Ora fatta questa premessa iniziale che secondo me è interessante sulla cultura cinese poi ditemi sempre se ho detto qualche cosa che non è che non è corretta amici cinesi iscriveteci sotto nei commenti andiamo a vedere quelli che sono i quattro segreti e le quattro cose a cui stanno più attenti i cinesi nel risparmio che gli permettono quindi di risparmiare così tanto nella loro vita rispetto a quello che guadagnano. Prima di vedere questi quattro principi questi quattro segreti non dimenticarti di iscriverti gratuitamente alla challenge verso la tua libertà finanziaria. Tre giorni, 60 minuti al giorno live per impostare il percorso, la tua roadmap verso la tua libertà finanziaria. Link sotto in descrizione qui sulla i in alto a destra ci clicchi, ti registri, è gratis e noi ci vediamo live alla prossima challenge che faremo per impostare questo viaggio sarà molto operativa, pratica, si faranno tanti esercizi, vedremo tante belle cose e iscriviti e ne vedremo davvero delle belle. Adesso iniziamo andiamo a vedere quindi quali sono questi quattro fattori. Prima di tutto acquisto di beni, di lusso. I cinesi non, a parte quelli che vedete in Italia che li vedete spesso da qui acquistare beni di lusso, va bene, però in Cina non vedono di buon grado, di buon occhio acquisto di beni di lusso, quindi preferiscono, anche se possono permetterselo, magari preferiscono essere più umili, viaggiare fuori dai radar e questo chiaramente gli permette di avere un risparmio maggiore perché spendono meno in oggetti di lusso, beni di lusso molto appariscenti. Il secondo segreto che gli permette di risparmiare così tanto è quello di forzare tantissimo il risparmio. Io dico sempre, diciamo sempre, di risparmiare almeno il 20% di quello che uno guadagna, quindi se guadagni, dico mille, per semplicità devi risparmiare subito almeno 200 euro e per il resto lo spendi, quindi questa è già una buona abitudine al risparmio che consigliamo sempre. Tante persone mi dicono già, ma tanto il 20% dello stipendio. Ecco, i cinesi, alcuni poi non tutti chiaramente, però hanno l'abitudine a forzare ancora di più il risparmio ed utilizzano quella che è la regola del 10 a 1. Qual è la regola del 10 a 1? Che ogni 10 dollari guadagnati si forzano tutto il risparmio e cercano di spenderne uno. Cioè cercano di vivere con un dollaro ogni 10 guadagnati per forzare al massimo il risparmio, quindi forzano il 90% del risparmio rispetto a quello che guadagnano. Poi magari non ci riescono sempre, non ci riescono tutti i mesi, ma quando possono cercano di forzare al massimo il risparmio, perché poi dopo, quando hanno magari più spese, in vista di periodi più bui, dove hanno più spese, ecco il fatto che riescono a spendere meglio e magari non indebitarsi e poi riescono ad accumulare. Quindi non riescono ad accumulare chiaramente sempre il 90% di quello che guadagnano, ma quando possono, risparmiando il 90%, poi in altri periodi dell'anno o della vita dove vanno a spendere di più, ecco il fatto che vanno ad utilizzare quel risparmio forzoso che si sono fatti prima e quindi poi riescono ad arrivare magari alla fine dell'anno in questo caso con un risparmio, come abbiamo visto, di circa il 45%, però buona questa abitudine di provare a forzare il più possibile il risparmio arrivando anche al 90%. Ora, se diciamo in Italia di forzare il risparmio al 90%, qui mi tirano i pomodori in faccia perché chiaramente in Italia è difficile, non è per tutti forzare il 90% dello stipendio. Sono arrivato a forzarmi anche il 70% di risparmio dello stipendio, ma chiaramente bisogna avere redditi elevati e non è per tutti e questo chiaramente lo capisco, non si può applicare in tutti i paesi. Che poi anche in Cina non è che ci riescono tutti perché risparmiare il 90%, ma quando? Cioè, è difficile. Però quando possono, anche in singoli mesi, cercano di far questo per poi fronteggiare meglio periodi più difficili magari dell'anno. Quindi di fatto fanno quella sorta di provviste. Attenzione però con questa regola qui perché dall'altra parte se da una parte forza il risparmio, dall'altra parte vi fa sviluppare una mentalità da pidocchi. Perché risparmiare tutto, 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 non spendere niente, poi a un certo punto anche questo va alla deriva. I soldi bisogna anche spenderli, bisogna farli girare nell'economia, bisogna anche spenderli per soddisfazione personale. Dobbiamo spenderli soldi, il giusto. Quindi io da questo estremismo che ho rilevato preferisco la regola del 20% che usiamo noi dove, fatto 100 il tuo stipendio, 20 risparmiali subito, che è già un buon livello, un buon livello di risparmio. Quindi non esagerate nel risparmio, se no fate la fine di tutti quanti. Ce l'abbiamo il classico amico pidocchio della compagnia che sta lì, che guarda i centesimi, non spende niente, è veramente odioso, odioso e nessuno vuole averci a che fare. Però ecco, attenzione perché questa regola di forzare così tanto risparmio veramente poi vi porta ad un eccesso che non è salutare e sano neanche quello. La terza regola che i cinesi utilizzano per aumentare il loro risparmio è quello di concentrarsi soprattutto sulle spese necessarie. Quindi tutto ciò che non è necessario cercano di tenerlo al minimo e quindi cercano di spendere tutto quello che gli serve per poter vivere e quindi vogliono accumulare e cercano di accumulare il più possibile anche andando a tagliare tutte quelle che sono le spese non necessarie, le spese superflue. E nello stare attenti allo spendere fanno molta attenzione ad esempio al valore degli oggetti che vanno ad acquistare e quindi cercano di acquistare oggetti di grande valore. Il grande valore non vuol dire prezzo elevato, vuol dire oggetti che magari possono pagare più o meno tanto che poi andranno ad utilizzare per un lungo periodo della loro vita. Cioè evitano gli acquisti quelli un po' fine a se stessi che anche noi tutti quanti tutti quanti facciamo. Avete tutti quell'oggetto che avete comprato e dite ma ma che ci faccio con questo? Che l'avete utilizzato una volta e poi non l'utilizzate più. Magari l'avete pagato anche tanto. Loro no, cercano di fare acquisti oculati quindi quando acquistano una cosa preferiscono magari anche spendere un po' di più ma vogliono qualche cosa che gli duri poi nel tempo perché più tempo la utilizzano e più ammortizzano il prezzo che hanno speso per acquistare quell'oggetto. Se io, non so, faccio l'esempio del mio computer. Ho acquistato il mio MacBook quattro anni fa esatti proprio da adesso. Facciamo conti semplici. Supponiamo che l'avessi pagato 4.000 euro. L'ho utilizzato 4 anni senza mai metterci un euro di manutenzione, di riparazione eccetera. Quindi ho speso 4.000 euro in 4 anni. Quanto l'ho pagato il mio Mac? 1.000 euro all'anno. Il costo del mio oggetto è stato 1.000 euro all'anno di questo oggetto. Poi chiaramente dovrei fare il conto al netto della rivendita. Non lo so, se ecco l'ho pagato 3.000, se me lo rivendo a 1.000, ecco che il totale del costo in 4 anni è stato 2.000 euro. 2.000 euro per 4 anni, quindi quanto mi ha costato il mio Mac? Mi sarebbe costato 500 euro al mese. E questo è un po' il discorso, il ragionamento che fanno. E per finire, l'ultimo segreto, l'ultimo consiglio, l'ultima regola che utilizzerebbero i cinesi per forzare risparmio, cercare di risparmiare il più possibile, se lo andate a chiedere a loro vi direbbero, quando si tratta di cibo, mangiate a casa. Questo è quello che ho letto, non me ne vogliate, se non è così scrivetelo sotto nei commenti, però preferiscono per forzare risparmi o mangiare a casa piuttosto che andare a mangiare fuori perché vanno a risparmiare veramente tanto. Ovviamente ognuno può farlo in base alle proprie disponibilità, in base alle proprie possibilità, quindi non è che adesso dovete stare sempre a casa e non dovete uscire mai, cercate sempre di trovare il giusto equilibrio. Ripeto, quando risparmiate, a mio modo di vedere, il 20% delle vostre entrate, per me siete già ad un buon livello di risparmio che vi permette di accumulare ricchezza, reinvestirla e crescere velocemente nel tempo fino a raggiungere magari la libertà finanziaria e poi vedremo come si fa per raggiungere la libertà finanziaria. Anzi, se volete impostare il vostro percorso per la vostra libertà finanziaria, abbiamo fatto questa challenge, mi date 60 minuti al giorno per 3 giorni, gratis, senza spendere una lira e faremo questa challenge per impostare tutto il percorso. Sarà molto pratico, ci sarà un quaderno degli esercizi, faremo veramente tanta roba. Sotto in descrizione c'è il link per iscrivervi gratuitamente oppure trovate la i qui in alto a destra nell'angolino. Ci cliccate 20 secondi, vi registrate e poi ci vediamo live alla prossima challenge che faremo. Detto questo ragazzi, fatemi sapere se questi consigli vi sono stati di aiuto, se già li mettete in pratica, non li mettete in pratica, se ne avete degli altri, oppure ditemi se ho detto qualche fregnaccia. Mi sono andato un po' a documentare a destra sinistra, ho visto diverse fonti interessanti, articoli interessanti, quindi questo è quello che ho percepito in giro. Poi chiaramente non ho esperienza cinese, qualcuno che ha esperienza cinese o cinese o che vive in Cina, sotto nei commenti magari potete dirmi la vostra e iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video che usciranno nei prossimi settimane, mesi, perché parleremo tantissimo di finanza personale e libertà finanziaria. Commentate, condividete perché i vostri amici potrebbero non saperle e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!